è una seda che ha un gusto molto morbido, un po' retro si potrebbe usare anche dire che è una seda cicciona, estetivamente accogliente perché è molto morbida sia nelle linee, nella silhouette che negli spessori. Mini Forbes è un'azienda giovane, una famiglia che crede nelle idee, ha un carattere spiccatamente eclettico.